Questi ultimi giorni è arrivata la notizia della possibilità di recuperare alcuni fondi di FTX, del fallimento di FTX e abbiamo un nuovo sito, un FTX EU, che ci permette di recuperare quelli che erano i depositi su FTX solo, però relativi agli utenti, europe, quelli che si erano registrati da marzo 2022, quelli che non avevano la leva, se vi ricordate avevano la leva max 2%, quelli potranno riavere i fondi di FTX perché il Ciprus Security, la SEC di Cipro ragazzi, ha dato il via libera a queste cose, questo è l'organo a cui sono registrati tutti i broker praticamente che operano in Europa, i più grossi insomma eccetera, e anche FTX che era ovviamente abilitato, era regolamentato in Europa, era registrato, però gli utenti precedenti all'abilitazione alla SISEC di Cipro non rientrano in questo contesto, cioè tutti quelli che avevano il conto FTX prima del 2022, ciao ciao perché sono clienti FTX International, c'era la leva 20x se vi ricordate, anche io ovviamente faccio parte di quei clienti e quindi ancora non si sa nulla, anche se sicuramente questo passa avanti e potrebbe magari cambiare qualcosina nei prossimi mesi, magari la SISEC di Cipro riesce a far raggiungere i clienti con che vuoi sia europeo, anche a FTX EU perché in teoria dovrebbe essere già così, dovevano averlo fatto proprio quelli di FTX, però al momento ragazzi non si sa niente. Allora oggi parliamo di queste cose, poi andiamo a guardare un po' due grafici perché Ethereum ci prova ed è Nasdaq che sta riuscendo a fare nuovi massimi, soprattutto questo lancia un po' Bitcoin, il campanello d'allarme a Bitcoin e gli dice hai il tempo breve, devi breccare questo livello di resistenza, quindi vediamo anche un po' un aggiornamento, vi faccio un po' un resoconto anche di quello che è la questione di FTX, magari qualcuno di voi ha aperto il conto a marzo 2022 con FTX EU e può recuperare i fondi. Prima, prima, prima però ragazzi, ultime, ultimi, ultimi, ultimi coupon con le offerte di primavera, sono finiti praticamente tutti, ne restano sei o sette circa, non so, adesso dipende quando pubblico il video e allora ragazzi vi lascio il link in descrizione per le offerte relative al corso, è andato a ruba ovviamente il pack premium, sono sincero perché? Perché ha questo modulo sulla gestione del portafoglio delle cripto che evidentemente è piaciuto veramente tanto, è un modulo tra l'altro anche estremamente breve ma iper funzionale, cioè serve solamente a far capire come ragionare con il portafoglio cripto aggiungendo la variabile del trading e dell'operatività legata ai grafici, quindi seguendo il prezzo e non basandosi solo sul concetto del progetto e quindi un po' rischiare di essere contro trend. Tra le altre cose c'è il super sconto del 10%, ancora per gli ultimi coupon ne sono rimasti sei o sette appunto, e ragazzi una super occasione, due giorni domenica si chiudono con queste offerte, poi la successiva sarà probabilmente fra qualche mese, insomma ci vuole di solito dopo l'estate, quindi non fatevi scappare queste occasioni perché tra le altre cose c'è il nuovo modulo sull'analisi ciclica basic che è stato registrato sul basic 2.0, quindi sul corso, è assolutamente imperdibile per chi vuole aggiungere una variabile in più, per chi vuole aggiungere un'analisi in più che vi permetta appunto di stare non solo a favore di trend, ma anche a favore di tempo ragazzi, cioè quando inizia un nuovo ciclo, quando siamo pronti per un nuovo ciclo e poi a capire anche quello che dico io quando faccio tutte le analisi. Va bene, detto questo, link in descrizione, passiamo alla questione di FTX, molto semplicemente ragazzi, questo sito è ftxeurope.eu, vi lascio tutto in descrizione, è legit, sembrerebbe legit, perché? Perché c'è anche sul sito della 6sec di Cipro, che è eccolo qui ragazzi in pratica, quindi se andiamo a cliccare su questo link, intanto ci dice il numero della licenza di FTX e Europe, però il sito e il dominio approvato esattamente è questo qui che vi sto facendo vedere. Allora, teoricamente questo è legit e dovrebbe appunto funzionare. Non c'è stata data una comunicazione da FTX ufficiale, perché almeno non è arrivata, ma io non ho l'account FTX Europe, quindi può essere anche che è arrivata solo l'account FTX Europe. A me è arrivata questa ragazzi, come anche a tutti quelli che si sono, che sono incappati nel fallimento di FTX, cioè la mail da parte di Crollo che sta gestendo la ristrutturazione del debito di FTX International, dove ci danno il codice relativo alla nostra posizione e tutto il resoconto delle somme presenti. Tra le altre cose io ho notato una incongruenza anche nelle somme, perché ce ne sono di meno, perché gli ultimi giorni che FTX stava ancora aperto, anche se non si sapeva se Binance lo acquistava o meno, erano aperte ancora le posizioni in oscillazione e quindi alcune operatività in trading erano andate a fare anche altri profitti in quel caso, però quei profitti ho notato non li hanno inseriti, quindi evidentemente avranno preso proprio il momento del 6 di aprile, 11 aprile, insomma, avranno preso un momento particolare dove hanno fixato tutti i saldi e basta. Quindi quello che è successo dopo evidentemente era un giochino, cioè un giocattolo con i soldi finti, insomma, è che prima erano veri a dire la verità, ma su questo lo potremmo dirne veramente su tante, tante, tante anche altri broker. Vabbè, detto questo, qui potete inserire email, password, fare login, se tutto funziona, se volete aspettare una email, se avete l'account FTXEU, magari aspettate l'email. Io ho provato, ovviamente non funziona il mio account perché non sono EU, però già questo secondo me è un passo avanti. Se poi volete avere anche tutta la guida su come funziona questo recupero, c'è un canale, ragazzi, su Telegram ufficiale, non ufficiale, che però ha fatto una serie di richieste per i risalcimenti, eccetera, seguono molto attentamente questi eventi, quindi io vi lascio il link in descrizione del canale Telegram, però vi faccio vedere anche la loro guida che hanno saggiamente già pubblicato, e andatela a vedere, io sinceramente non l'ho spulciata in toto per vedere se funziona o non funziona, quindi ragazzi non mi prendo la responsabilità perché non avendo io l'account EU non posso procedere con la guida, quindi non so se effettivamente funziona, però andate su quell'account se volete magari confrontarvi con altre persone e se trovate qualcuno che è FTXEurope magari vi scambiate informazioni in questa fase. Speriamo che anche gli utenti international però con KYC europeo siano inseriti sotto la tutela del SISEC europeo perché FTX, ragazzi, aveva la regolamentazione, quindi risponde anche quest'ordano, quindi dovremmo teoricamente essere tutti all'interno, a meno che non si era con KYC fuori dall'Unione Europea, dovremmo essere tutti messi all'interno di FTX EU. Però al momento l'unica cosa che sappiamo è la possibilità di avere un saldo totale. Tra le altre cose, ragazzi, ci sono dei siti che vi danno la possibilità anche di vendere i vostri diritti nel fallimento nel capitolo 11 di FTX International. Non mi interessa insomma dirvi il sito o meno, ma mi interessa dirvi una cosa. Vi danno la possibilità al momento di ottenere un rimborso intorno al 19%, questo che significa, ragazzi? Se vi ricordate, qualcuno di voi magari ha visto i miei video qualche giorno di post fallimento FTX, ve ne avevo parlato, sostanzialmente farei il 20% e il 30% del capitale che voi avevate lì sarà recuperabile. Questo è se vogliamo avere una stima legata al fallimento, perché se questi siti già oggi vi comprano al 19% il vostro credito, vuol dire che loro ci metteranno un markup, uno spread sopra e arriveranno al 25%. Teoricamente il 25% dovrebbe essere la cifra esaustiva, cioè 25% del vostro patrimonio, del vostro importo presente su FTX International dovrebbe essere recuperato, a meno che per gli utenti europei non scatta questa questione che ci aggiungono a FTX EU, anche a noi, e ci fanno recuperare tutti i nostri crediti. In ogni caso è una procedura che sta andando molto veloce e soprattutto comunque abbiamo delle informazioni che perché no, cioè ben che venga anche abbastanza immediate su questa cosa. Va bene, detto questo, passiamo alla questione dell'analisi di quelli che erano anche stati gli ultimi dati economici che ieri sono usciti, ma anche oggi c'è un dato molto rilevante che volevo farvi vedere, cioè la inflazione per quanto riguarda l'Europa, che è decisamente scesa molto molto bene. Eccolo qui ragazzi, non riuscivo a recuperarlo. Ok, allora eccoci qui per quanto riguarda i dati ragazzi, secondo me i dati più significativi sono usciti ieri, giovedì e oggi perché questo dato sul tasso di infrazione dell'Europa che è scesa al di sotto del previsto di 7,1 ci fa ben sperare che anche quelli che sono gli rialzi dei tassi dell'Unione Europea stanno portando i loro frutti. Vi ricordo ragazzi, con tasso di infrazione intorno al 2-3% è accettabile da parte delle banche centrali. Questo teoricamente significherebbe che la banca centrale certamente non alzerebbe più i tassi di interesse oltre quei livelli. Quindi non è una cosa che arriva di pari passo. Cioè probabilmente la banca centrale continuerà ad alzare i tassi secondo i suoi obiettivi che porteranno poi il tasso di infrazione intorno al 2-3%. Però essenzialmente vedere già che qualcosa si muove è positivo. Poi abbiamo avuto un leggerissimo rallentamento degli Stati Uniti relativo al PIB. Richiesti di disoccupazione irrilevanti questo dato è un po' di più di quello atteso ma praticamente è poco rilevante. Cioè qualcosa si muove ma non in maniera impattante. Poi passiamo a vedere invece quello che è un grafico che lo avevamo dipinto. Se vi ricordate sono settimane il grafico di Nasdaq. Lo avevamo dipinto che sarebbe andato a breccare questo livello di resistenza con grande tranquillità e insomma dopo un po' di resistenza classica poi è andato a fare il suo break. Allora intanto questo trend di Nasdaq 100 è veramente molto significativo per avere la certezza che da qui è iniziato un nuovo ciclo annuale anche su Nasdaq noi dovremmo comunque superare questo livello che è ancora molto alto. Non è detto che però anche non superando questo livello il mercato non abbia comunque iniziato qui un annuale perché non serve salire a forza al di sopra di questo swing. Diciamo che sopra questo livello di massimo noi abbiamo la certezza che quindi sia un nuovo ciclo annuale ragazzi però il ciclo annuale nuovo di Nasdaq potrebbe tranquillamente fare il famoso cammello e fine dei giochi cioè non è detto che debba andare assolutamente. Anzi secondo me questo livello di resistenza è molto importante solo un cambio radicale da parte della banca centrale delle aspettative del mercato della DBA e dei tassi di interesse quindi un eventuale allentamento dei tassi di interesse nel primo trimestre del 2024 oppure addirittura nell'ultimo trimestre 2023 porterebbe secondo me in là per far alzare ancora di più i titoli tech e farli arrivare in questa zona con grande facilità. anche perché c'è una struttura ciclica sulla rapporto cioè sui rapporti di forza tra il risk on risk off che ci danno riusciamo a ricavare proprio attraverso gli ETF di SP500 che in questo momento hanno una struttura ciclica lo vediamo però in un prossimo video anche quello è interessante magari ne parliamo lunedì di questo perché volevo farvi vedere questo dettaglio di come il mercato è vero che è il risk on ma la ciclica su quello spread che va presa con le pinze perché è uno spread ci dice che in realtà il risk on è solo temporaneo quindi teoricamente porterebbe un po' una idea di cammello anche lì. Vabbè andiamo a vedere invece la questione di Ethereum perché questo è un grafico di Ethereum BTC i rapporti tra Ethereum BTC e qui invece abbiamo un Ethereum che sta provando a breccare il livello di resistenza proprio oggi cioè questa zona di 1008 è uguale a Bitcoin ragazzi perché Bitcoin anche lui si è messo in pratica vicino al suo livello di resistenza della settimana allora qui siamo sulla settimana ah ragazzi questo è un grafico che poi un giorno rivedremo perché l'abbiamo fatto faccio giusto la kick ragazzi questo è il grafico di cui abbiamo parlato abbiamo parlato più di un anno e mezzo fa vi riprendo il video ve lo posto magari qualche volta dove abbiamo indicato quelli che erano i livelli di ingresso che potevano essere fatti nelle dip di un eventuale bear market è tutto identico a quel video guardate un po' cosa è successo ci sono due ingressi anzi uno un po' alto e l'altro invece l'ha avvenuto qui quindi per cosa per un holding di lunghissimo periodo quindi decennale quelle cose strane però mi fa piacere io lascio sempre i grafici come li vedete perché poi mi piace riguardarli dopo tanto tempo insegnano tante cose sulla nostra capacità anche di fare delle analisi quindi anche bitcoin come vedete è legato al suo livello di resistenza che è palese insomma in questa fase tra l'altro lo switch lo shadow di ieri non è riuscita in nessun modo a breccare ci aveva provato perché abbiamo fatto 29 e 82 c'è da dire che è stato fatto con uno swing assolutamente con pump and dump alle 3 del mattino vedete qui quindi insomma vedete alle 4 ore italiane insomma 3 orario di prima diciamo così quindi ha fatto up e down e insomma non è non è andato quindi è uno swing poco rilevate c'è da dire però che ci sta provando insieme appunto ad Ethereum Ethereum nella giornata di oggi potrebbe in effetti riuscire a fare questa cosa ma secondo me se Ethereum riesce bitcoin sponderà anche lui e quel livello di resistenza vi faccio però rivedere il grafico figo questo qui che è il rapporto tra Ethereum e BTC che ancora ci porta a livello di analisi ciclica a questa struttura qui che deve ricercare un minimo di questo rapporto di cambio proprio tra maggio e più o meno ottobre questa fase qui poi lo vedremo tanto insomma non è che si opera su questo cambio però cosa significa ragazzi una cosa del genere significa che teoricamente ancora bitcoin ha tanto da dire fino a questa zona qui da questa zona qui in poi si potrebbe riequilibrare la questione tra altcoin e bitcoin ma molti di voi che stanno ancora continuando a dire ma quando ripartono le altcoin secondo me fino a quando Ethereum non si riporta in equilibrio con bitcoin in quell'area lì fa il minimo ciclico del quadriennale ciclo quadriennale eccetera e inizia a tentennare al season proprio al season la vedo difficile vediamo un po' poi preziano hanno sempre ragione però da questi grafici ne otteniamo un dato relativo alla tempistica bisogna attendere aprile maggio e qualcosina giugno forse insomma un paio di mesi per eventualmente avere un alt season ma questo è un'opportunità ragazzi perché ci consente di fare uno studio su magari quelle che sono delle cripto che potrebbero beneficiare di un'eventuale in versione della forza relativa delle criptovalute rispetto a bitcoin vedere quali possono anche pampare vi ricordo e ribadisco per la milionessima volta perché poi mi fate sempre delle domande ogni tanto esce fuori il genio che scrive fesserie eccetera io non sono mai holder di cripto se non bitcoin è a qualcosa di ethereum ragazzi quindi qualsiasi cosa noi andiamo a dire relativa alle cripto di qualsiasi cripto io vado a parlare è sempre e solo una posizione di trading quindi se inverte il trend se cambia il trend quella posizione verrà chiusa a prescindere dal progetto da tutte quelle che sono le logiche dietro di cui uno ha parlato non si sta mai contro trend in una criptovaluta è proprio anche di questo che parlo anche nel modulo del corso ragazzi che vi ho fatto vedere prima proprio questo qui il modulo sulla gestione del portafoglio cripto non ne parlo in maniera assolutista perché secondo me ognuno ha il diritto anche di prendere un po' delle logiche diverse però spiego quanto rischio c'è in questa operatività è una operatività che ho chiamato holding intermittente che può essere invece utilizzata proprio nel cripto quindi però ci tenevo a specificare perché ogni tanto arriva il genio che scrive fesserie e continua a dire cripto qua hai parlato di quella cripto ho parlato pare che io parlo vai di romperare il cripto ma sempre trend following ragazzi ok se una cripto qualunque questa sia inverte se anche Ethereum inverte via a gambe levate vabbè bitcoin sono un po' più indeciso perché sono religiosamente affettuoso nei confronti di bitcoin però quella è una cosa mia personale per gli investitori quattro investitore anche se bitcoin dovrebbe uscire in maniera logica se inverte il trend però quello poi ognuno fa quello che vuole vabbè detto questo ragazzi vi rinnovo l'offerta di primavera scadenza domenica non vi fate scappare queste occasioni noi ci rivediamo probabilmente anche domenica per una cosetta se ci riesco altrimenti lunedì ciao a tutti buon weekend ciao a tutti ciao a tutti